Io sono venuto a Genova per incontrare il sindaco e il presidente della provincia, il prefetto di Genova, per comunicare loro quanto già noto, cioè che il governo lunedì stesso ha deliberato uno stanziamento di 15 miliardi per riparare i danni subiti dalla città in occasione del G8, ma per comunicare soprattutto che già da domani mattina nelle tesorerie del Comune di Genova ci sarà questo stanziamento spendibile.